Buona serata e ben Ben ritrovati con le pillole di Fair Play, la nostra finestra quotidiana sull'attualità cittadina e non solo. Stasera ci occuperemo di un tema molto molto preoccupante. Abbiamo intitolato questa puntata Crack a cielo aperto. Perché? Perché sono sempre più frequenti a Udine e nei dintorni i casi di giovani che si affidano a questa sostanza stupefacente pericolosissima, la cocaina che si fuma in sostanza. L'ultimo caso in ordine di tempo ce lo racconta Eddie Sanson che è il presidente dell'associazione I nostri diritti APS, un'associazione della quale abbiamo parlato molto spesso nei mesi scorsi perché si è trovata un settore molto particolare, ovvero quello di impiegare delle persone che naturalmente hanno avuto dei problemi con la giustizia e che per portare avanti in una ottica di recupero anche in chiave sociale vengono affidati all'associazione che poi li utilizza, li coordina per degli interventi di messa alla prova utili al territorio, utili alla città. Buonasera Sanson. Buonasera a voi, grazie di avermi chiamato. Cos'è successo? Nei giorni scorsi voi assieme appunto a queste persone che coordinate eravate nei dintorni del Tribunale di Udine, nell'area, nel lato di via Morpurgo. E che cosa è successo? Ieri, nell'ambito del progetto Ordine Decoro che portiamo avanti nella città di Udine, ma anche in alcuni comuni limitrofi, e devo citare quello di Campo Formido che ci ha dato fiducia, alcuni di noi lavoriamo sempre a piccoli gruppetti, c'è sempre un coordinatore dell'associazione, avevamo in mente di pulire appunto queste scale, questo punto della città un po' più nascosto, che però è la via di fuga, eventualmente dovesse succedere qualche cosa nei parcheggi della città, nei parcheggi sutterrani. Purtroppo questi luoghi vengono sfruttati da coloro che una volta, io ricordo purtroppo la mia età mi porta a ricordare il dover chiudere i bagni dei locali pubblici perché altrimenti erano utilizzati da coloro che dovevano andare a drogarsi, e ora invece si nascondono nei nostri sotterrani, negli anfratti della città dove potrebbe succedere di tutto, potrebbe succedere l'irreparabile e dove ieri dei lavoratori socialmente utili hanno sentito dei rumori, hanno inteso chiamarmi perché in passato erano già state trovate delle silinghe e quelle che inquadrate adesso che sono le stagnole utilizzate per scaldare il crack e poi aspirarne i fumi. Mi hanno chiamato, io ero in zona, la mia esperienza da ex carabiniere mi ha permesso di scendere nel sotterraneo, di sorprendere coloro che stavano adoperando questa sostanza, che però alla mia presenza non è servita a nulla, non hanno desistito, hanno acceso e hanno iniziato ad aspirare. Ha chiamato subito le forze dell'ordine, Sanson, ha avvertito di questa situazione. A quel punto ora io non sono più obbligato alla comunicazione della notizia di reato, ma è sicuramente una violazione, è sicuramente una violazione anche a cedere, visto che c'è un cartello che dovrebbe impedire alle persone non autorizzate di accedere, ma questo evidentemente non basta per il senso civico. E quindi ho richiesto l'intervento di una pattuglia immediatamente intervenuta e poi i carabinieri hanno fatto loro identificando, prequisendo e facendo quello che è previsto per legge. Però stiamo raccogliendo delle segnalazioni continuamente, l'associazione si chiama I nostri diritti e io mi sento in dovere di tutelare i nostri figli e tutti i cittadini che non possono dover sopportare delle situazioni di insistenza, non dico di sopruso perché non ho notizia di azioni, però sappiamo bene che da qui alle bande che poi scorazzano ne abbiamo contezza dai telegiornali quotidianamente e Udine io credo che non si possa permettere di situazioni di questo genere, quindi credo che oltre alla repressione la prevenzione sia dovuta. Oltre all'aspetto naturalmente di decoro urbano e di sicurezza dei luoghi c'è anche un tema di fondo che ritorna all'attualità, il consumo di queste sostanze stupefacenti, queste droghe pesanti soprattutto tra i giovanissimi. Un altro caso che avete raccolto arriva da un autobus di studenti? Sì, arriva proprio dagli studenti che hanno dovuto subire questa, il consumo è l'azione, è identica a quella che mi è separata avanti sabato pomeriggio e ecco, la state facendo vedere, sembra una cosa innocua, ma se fosse anche una sigaretta in un autobus di linea sarebbe un qualche cosa di illecito, ma qui si trattava in economia del consumo di sostanze stupefacenti, i ragazzi che hanno segnalato erano tra l'altro minori degli anni 14 e non credo anche in questo caso che si debba subire. Io non sono per la repressione, sono per la prevenzione, se queste persone hanno bisogno di un aiuto per curarsi, se mai lo volessero, beh, l'associazione è in grado di attivarsi con altre strutture dello Stato regionali, locali, perfettamente efficienti e assolutamente disponibili a tutte le situazioni, e però non è possibile una cosa, un consumo agli occhi di tutti, sotto quasi immaginando di non poter essere toccati che fosse una cosa che possa diventare una cosa lecita, una cosa all'ordine del giorno, da fare alla luce del sole. Io ho due figlie giovani che prendono l'autobus, che vanno a scuola, credo si debba fare qualcosa, possiamo farlo, le leggi ci sono, la polizia è presente sul territorio, polizia carabinieri, polizia locale, infatti in un altro parco dove noi abbiamo pulito più volte sono state installate delle telecamere perché lo spaccio era così insistente, così dominante di un'area che fino a una certa ora è di dominio di questi gruppi e poi sono zone che sono frequentate da bambini che giocano a pallone, beh non credo che nemmeno accidentalmente possiamo permettere che ci sia questo incrocio tra lecito e illecito, almeno per i nostri figli. Siamo in chiusura, giusto un flash anche per ricordare la vostra attività, dicevamo partita nei primi mesi del 2021 ufficialmente, ecco quante persone avete supportato in queste attività di recupero e anche che cosa siete riusciti poi a risistimare, a riqualificare? Beh, noi siamo entrati in campo in un momento molto difficile dove tutto era chiuso, l'associazione ha inteso dover portare avanti il programma perché è un programma di giustizia, riabilitativa e quindi abbiamo lavorato anche in lockdown, abbiamo pulito dei fossati, delle strade, dei luoghi anche così di iniziativa, abbiamo partecipato alle iniziative del comune di Campoformido con i due cimiteri di Campoformido e Basaldella, le scuole di Campoformido, il campo giochi dove tra l'altro poi quando lo abbiamo ripristinato il campo sportivo nelle reti e nel dipingere le tribune che erano state un po' imbrattate da graffiti, alcuni anche belli, abbiamo organizzato una partita tra buoni e cattivi, noi dovevamo essere buoni, i ragazzi invece sospettati dell'imbrattamento dei cattivi hanno vinto i cattivi, ma di attività ne abbiamo fatte molte, abbiamo anche portato a termine una situazione di vera giustizia riparativa di un'abitazione che era stata distrutta da un soggetto che aveva avuto lo sfratto e nell'associazione molte delle professionalità sono state sfruttate, ma anche di coloro che erano chiamati a fare i lavori socialmente utili, quindi abbiamo messo, ripristinato al decoro questa piccola casetta e abbiamo in progetto chiedendo alla Polizia di Stato di poter in qualche modo alcuni di questi soggetti hanno mancato di rispetto alle forze di polizia che ricordo io ne ho fatto parte e quindi sono lavoratori che lavorano per il cittadino e alcuni di queste persone sono poi diventati soci, non tutti ma molti, vorrei che capissero gli uni e gli altri che chi ha sbagliato può recuperare e chi porta una divisa è un amico al quale noi ci dobbiamo rivolgere senza paura, quindi dobbiamo mettere in condizioni i lavoratori di polizia, perché i lavoratori sono, di fare il loro lavoro al meglio e io con l'esperienza che cerco di così, anche perdonatemi si approfitto, quello che mi ha insegnato colui che chiamo ancora il capitano Pasquariello ma il tenente colonel Pasquariello che è venuto a mancare da poco e che voleva condividere un progetto di informazione per i ragazzi, secondo me l'informazione è alla base di tutto, informando e cercando di comprendere quali sono i ruoli possiamo portare il giusto rispetto. Grazie, grazie e buon lavoro, continueremo dunque anche a seguire le vostre segnalazioni, grazie a Eddie Sanson. Grazie a voi, buona serata. Pillole di Fairplay termina qui, l'appuntamento torna domani sempre alle 19.30, buona serata. Grazie a tutti.